Sovizzo. Sono stati i carabinieri a rintracciare in poco meno di 24 ore la badante moldava di 37 anni, autrice di una rapina nella casa dell'anziano che accudiva. L'uomo, novantenne ma perfettamente autosufficiente, da pochi giorni aveva accolto in casa sua la donna per aiutarlo nelle faccende domestiche. Avendola annotata armeggiare con una cassetta dove teneva i contanti, di solito nascosta, l'anziano le ha chiesto di lasciar stare. Per tutta risposta lei lo ha aggredito e spintonato con violenza, facendolo cadere e fuggendo con i soldi. Immediata la sua reazione nonostante le botte, l'anziano ha chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini rintracciandola badante in una sala slot di Vicenza, dove aveva iniziato a usare in contanti 1900 euro rubati. Per lei è scattata la denuncia con l'accusa di rapina aggravata.